Stiamo nel negozio preferito di Dani Coutts, vero? Sì Che si chiama Justice Sì Però costa tanto Però adesso hanno 50% di sconto su molte cose Meno male 50% dai 50% di sconto Meno male E allora abbiamo preso alcune cose qui Meno male E se vedete hanno le modelle non solo magre ma anche che sono ragazze Anche un po' più piene Guardate qua, vedete questo? Che bello Girls around the world Che bello Ti piace? 8 a 10, 30, 9, 90, quasi 40 dollari Che puoi prendere uno di quelli là Un cannonino e tutto quello Per quel prezzo Alcune cose sono un pochino costose Troppo costose Non costose, troppo costose Ocora trick Sì Oh che carino Trick treat Per Halloween Pronti per Halloween Io voglio essere un gattino Oh, ora qua Oh, donut felice Donut felice Verrà 26,90 Guardate qua questi cuscini Che belli Ah, guarda qua Non cambia Oh, i colori cambiano Non curi però No, i curi no Emoji caca Tutta la roba di mermaids pure Oh, Danica piace tanto De sirene Dai è una sirena di cuore 22 Un po' troppo Ah, e poi c'è questo Yeah Ok, io l'ho fatto già Però penso che lo devo fare Un'altra volta What makes you unique Cosa ti fa essere a te unica Fammi scrivere Come io so di un canale gioco Siamo nel centro commerciale qui E questo è uno dei negozi Dentro Cosa scrivi I love justice Danica Bravo Oh, yeah E guardate qui sopra I pigiami che hanno Che c'ha il piccolo pouch Come i canguri Con l'emoji dentro Questo c'ha il gatto E questo qui invece Ha l'emoji dentro Che carino Il numero BFF selfie E un cilare Questo è il cilare Mamma mia Che bello E hanno pure i caniolini Piccoli piccoli Per le ragazze Per Non lo so La casetta Vestiti Entra Ciao Ciao Donica Ciao Cosa sono tutte queste buste Sono buste Certo Sono buste Sì, sono appena andata al mall Sì, abbiamo appena finito di fare la spesa Ci vuoi far vedere un attimo cosa abbiamo preso? Scegliete prima cosa Scegliamo Gimbori All right Andiamo di qua Vieni di qua Vieni Facci vedere un attimo Qua Allora Sì Sì, togli tutto Facciamo vedere tutto Gimbori Gimbori È una delle marche qui in America Dove le bambine vanno O i genitori Vanno a fare la spesa per i bambini È una marca un pochino più costosa Però Quando ci sono le offerte è buono prendere Sì Allora Facciamo Abbiamo preso questa maia Che misura 10 Per me Molto bella E dici il prezzo Il prezzo Non ci sta il tag? No Dentro la maia non dovrebbe essere? Oh Sì 10,90 10,59 Era Era Però Era 50% da quello Però poi è diventato a 5,50 Sì perché tutto era 50 Questo già era scontato a 10 qualcosa 10,99 Però poi hanno trovato Però poi hanno trovato 50,50 50% Dopo Sì Dopo Il giacca Già era Allora Vediamo il prossimo Che abbiamo preso da Gimbori Ok No Abbiamo ancora questi Sì da Gimbori Vestitino Vestito Che bello Che bello Allora Allora E poi era scontato a E poi era scontato a 8,99 8,99 Questo maia qua Era veramente 5,49 Perché loro avevano tolto Meno per questo qua 5,50 Questo qua Hanno tolto 9 dollari Perché hanno aggiunto il Military Discount Il sconto militare Perciò Sì Che era un altro 10% Se non mi sbaglio Poi dopo Queste scarpe Sì Il primo prezzo Di questi Erano 12,99 Non male Proprio hanno tolto 6,50 dollari Per il mio Tiro di sconto Ok Ottimo Allora Il totale Per quei tre Era? No Il totale Per questi Tutte tre Il totale Per questo Era 6,49 Allora Il totale Per tutte e tre? Il prima Prima Il totale Per tutto Era 20,97 Ok Però più tasse 22,23 Adesso Ottimo Siamo Justice Dag Mamma mia Mamma mia E i negozi preferiti di Danica Costa tantissimo Sì Lo so Perciò Non ci andiamo spesso E allora Abbiamo preso tantissime cose Dal Justice Mamma mia Mamma mia Tantissime cose Allora Cosa facciamo prima Quello che vuoi Pure qui Era tutto scontato Del 50% Già Del prezzo scontato Però sempre hanno un posto da dietro E' sempre scontato Sì Il posto avanti Non è scontato Davanti al negozio Come per Due pantaloni Una maglia Che sta avanti Non scontato Non scontato 98 dollari Solo perché Danica Stava ascoltando Una signora La sua conversazione Mentre Acquistava E la signora Ha detto Mamma mia Per solo Due pantaloni Con una maglia Quando non vai a comprare cose scontate Però da dietro C'era un posto Che hanno sempre Un piccolino posto Che hanno come cose Per Accessories Aspetta 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 Una giacca Eppure Su un zaino Che quello è quello che vuoi fare tu E questo qua sarebbe per mia preferita amica Lexi Questo qua sarebbe per me Poi dopo Costumi Che belli Che belli Che belli Per l'anno prossimo ovviamente Sì Perché Sono a misura 12 Che non mi andrebbero quest'anno No Per l'anno prossimo Sì Era costato Costava Costava 14,99 E quello era lo scontato Il prezzo originale Non dice Sì Dovrebbe dire Di solito i costumi sono Circa 30 dollari Non dice Scaroff Oh L'anno tolta Vabbè Vabbè Però Ma quello Quello è qualcosa Ma come Ma state Allora Il Originale Prezzo di questo Era prima 14,99 Quello era quello scontato però Eh Però Loro ci hanno dato Due sconti Il Il Clearance Che era Sì Sette Sette dollari Cinquanta centesimi Poi dopo un altro sconto Di militare Per un dollaro e dodici centesimi Allora è venuto in totale È divenuto a 6,37 Vai al prossimo Niente Niente Questo è troppo carino Danica piace Assai le sirene Perché lei vuole essere una E allora E guarda qua Loro Su alcuni Di loro panni Loro hanno Il cuore Il coso Che È il loro simbolo Di justice Che si vedono Quasi dappertutto Dappertutto I loro panni Perché come vedete Sulla busta Aspetta Oh Non c'è scritto Vabbè Ci sono i cuoricini Ah sì sì C'è Qua C'è un Seminino Che ha il cuore Con Cuore Zin 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 Con linee Tutto Tutto in giro E quel costume Quando ci è venuto Da costare Questo vestito Costume Era prima 1499 Il Geniale Prezzo Di questo Prima Di Cosa Era 32 Dove Di solito Tanto Costano Di solito Quanti sono i prezzi E questo mi andrebbe Già Perché Misura Dieci Però Quell'altro È per me Allora Quello L'ha Costato Lo stesso E l'altro È venuto A costare 6 dollari E 37 centesimi Ottimo Ok Bell'affare Sì Però Facciamo Questo qua Fashion Tecta Molto bello E questo Era Prima Di Il Come Il Sconto E Tutto Tutto C'era Ma Saper 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 Ma Era 22 Dollari E 90 centesimi Per questa Maglia Mamma mia E adesso È troppo E adesso Oh no C'è un altro Da sotto pure Perché Non avevano solo un prezzo Avevano un altro sconto di prezzo E quello era Quello era 6 dollari 92 6 dollari 99 centesimi Ma Non è tanto Vai al prossimo E poi È venuto A costare Veramente 2 dollari 96 centesimi Quello È il prezzo Ottimo Per una maglia Era 32 dollari A 2 dollari 32 A 2 dollari No E penso Venti qualcosa Cosa Yeah Però Avevamo Questo 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 qua La torroni Per come In ginnastica E cose così Questo Era veramente 16 90 16 dollari E 90 centesimi No Quello era Il prezzo Scontato Right No Ha il prezzo Originale Sì Però poi è venuta 9,99 Però poi 4,25 Con il Ottimo Mamma mia Che bel prezzo Vai al prossimo Però Questi qua Che ti piacciono Assai Come una sirena Perché guarda qua Come una sirena Come una sirena Questi qua mi piacciono così tanto E il prezzo? Ah il prezzo è Era Era 24,90 Era 24,90 centesimi Però Però 14,99 Però Con tutto il sconto 6,37 Guardate Guardate A questo Togli l'etichetta Là che non si vede Com'è? Là dove c'è scritto la parola Cosa c'è scritto? Happy Mamma mia Però poi L-O-L E guarda qua È rotto È rotto Qua Adesso lo puoi vedere Tu il ginocchio È rotto È rotto È rotto È rotto Vai Eh Mamma mia Costava prima Un altro prezzo Mamma mia Costava prima 29,90 Quasi 30 dollari Quattordici 99 Poi Ropo 6,37 È venuto a costare Ottimo prezzo Mamma mia Ok Poi Ropo Il Zaino Lo zaino Purtroppo Lo zaino Non era scontato No Si Devo Purtroppo Il prezzo Però È venuto E guarda qua Questo c'è Poi Guarda qua Due cose In uno In uno Tadà Tadà Poi Tadà Ci stanno un pocket Poi dopo un altro da dentro Poi dopo questo qua Poi dopo questo qua Poi dopo questo qua Che ha l'altro da dentro E poi la cosa bella E poi la cosa bella con questo E poi la cosa bella con questo E pure questo qua Però la cosa bella di questo è che Noi abbiamo preso questo al posto Se mi andate a prendere questo al posto E È costato 34,50 Poi ci stava un pochino di sconto Però Sì Però il sconto era solo Venuto a 29,32 Non bar me di niente Però tu sai cosa? Il coso bellissimo Che era Noi l'abbiamo ordinato dal Online Là al posto L'abbiamo ordinato Sul sito Loro ci hanno ordinato Che è così Il lunchbox Che sarebbe Il Oh guarda qua È cuorecino Un'altra volta Questo comunque Con questo Pagando questo Viene il lunchbox Il lunchbox gratis Che sarebbe Che veramente Quello che si mette il pranzo dentro È Normalmente Il Coso Veramente Del Il Lunchbox È È costato solo Era 12,90 Però era gratis Con questo Noi non Devebiamo Pregare Quel cosiddetto No E poi ci hanno dato Dei buoni Per la prossima volta Che andiamo È Eppure Noi Abbiamo speso 35 dollari Per questo Con le tasse È Questo è le tasse È Il coso Però il nostro Il Zano Il Lunchbox Arriverà Il giorno dopo Di scuola Però Va bene Nessun problema Abbiamo altri Però Abbiamo altri Allora Buon acquisto Per oggi Buon acquisto per oggi E però Per lei ci avevano dato Pure Tre Di questi Uno Buoni Per la prossima volta Due No scusami Quattro Tre Quattro Sconti Per la prossima volta I coupon Che è per la prossima volta Che andiamo a fare spesa Sul sito Eppure Non O sul sito O in negozio È Che devi pagare 40 dollari O di più Per avere 15 off E poi Rappo 60 E di più Per avere 25 Ottimo È dentro Il Cosa Ok Allora però Il nostro Che sarà attaccato A questo video Ti vado a vedere Tutti i vestiti È pure La store Venite al mio store Benvenuti a Justice e Jimbray Tutte queste cose Sono su sale Except Una cosa che non sta su sale È il Zaino Ah ok Va bene Zaino non è I costumi sono Tutto è Except Il zaino Allora mi piacciono Queste scarpe No Tu prendi le cose E Lo porti con te Al cash register E Però ti le darò La busta Non vuoi Non vuoi niente Di questi Questo Mi piace Oh Solo dicendo Però È il zaino Si Se tu stai vedendo Per il zaino Per la Forse Sì Questo è così Poi Può andare Sull'altro lato Wow che carino Questo qua è 34,50 Però Questo Se tu ordini Il 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 Lunchbox Che viene Con il coso Sì Viene gratis Pure Gratis Viene Alla tua Casa Wow Va bene Allora me lo prendo È Così Convincente È Allora Ho tutto Quello Che voglio Non vuoi Quei pantaloni Perché Tutto Questo È Su Vendita No Solo Questi Per adesso Semmai Un altro Giorni Ok Allora Facciamo Questo Questo Non ha il prezzo Va bene Sì Viene gratis Sì Questo Sarebbe 34,50 Vuol dire Questo No Lo puoi lasciare Grazie Questo Questo Bellissimo Mi piace Assai Ti sa Quello L'ha pure Bellissimo Pure Lo so Va bene Voglio Questo Solo Per adesso Vado Prendere Qualche Cosa Che Viene Con il coso Ok Che ti Devo Dare Allora Eccola Allora Questo Questo Wow Buon Quella Una bella Maya Sì Mi piace Ok E questo Qui È l'ultimo Ok Il Tutto tale Sarebbe Sì Questa è per il design, questa è per i vestiti e il coso, e questa è per tutto. Wow, grazie mille! Il tuo totale sarebbe 35,10, però più il zaino, 35,10, 60, 60 dollari e 10 centesimi. C'è euro? Posso pagare in euro? Sì, facciamo quello pure. Vuoi il zaino separato? No, puoi mettereppoli tutti insieme, grazie. Non tu, penso che dovrei fare il zaino separato però. Sì, se non lo posso più portare a mano. No, 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 abbiamo già questi. Ottimo, grazie mille signore. Ecco i soldi. Allora, mi serve tutto. Grazie mille. Sconti, grazie mille. Eppure, a parare di lei in safe, questo è il nostro sito. Ok. Il justice credit card che tu prendi e tu hai un sconto ogni volta che tu vieni qua. Oh, wow. E, um, three ways to stop every day. Ottimo, grazie mille. Ecco i soldi, 60. Come ho detto, 10 centesimi. Oh, wops. Scusa. Se no tu mi puoi dare 100 e ti do il resto. No, non c'ho 100. Ok. Ecco 10 centesimi. Grazie mille signora. Ok, grazie tanto per la spesa signore, è stato un piacere. Prego, prego. Grazie mille. Ciao. Grazie per aver voluto questa mia spesetta al mall e ci vediamo alla prossima.